Tutto pronto, domani lo stadio Bonolis di Teramo ospiterà le prime amichevoli della nuova stagione con il triangolare che coinvolgerà i biancorossi, il Pescara e il San Nicolò. La formula sarà quella del girone all'italiana con tre incontri da 45 minuti ciascuno. Si comincerà alle 20.30 con Pescara-San Nicolò, a seguire alle 21.30 il derby tutto di casa tra San Nicolò e Teramo e infine alle ore 22.30 il big match tra Pescara e Teramo. Per l'occasione, come da disposizione emanate dalla questura di Teramo, la vendita dei biglietti sarà libera senza alcun vincolo relativo a supporters card o tessera del tifoso. Sarà quindi un test importante per tre squadre che si stanno preparando ad affrontare tre diversi campionati. Il Pescara ha iniziato proprio ieri il ritiro ad Atri, presso il quartier generale all'hotel Du Park, con allenamenti a porte chiuse esclusi gli ultimi 30 minuti. La squadra pian piano sta prendendo forma, plasmata dal nuovo tecnico Marco Baroni e intanto la società continua a sondare il mercato per poter rinforzare il reparto difensivo, dove servono ancora un paio di pedine. Il Teramo invece è rientrato mercoledì in città dopo il ritiro in Trentino, dove ha svolto ottimi test amichevoli, tra cui il prestigioso pareggio con il Torino. Domani Vivarini potrà schierare per la prima volta in campo i nuovi acquisti di Achite Buonaiuto e il portiere Tonti. Ancora fuori gli acciaccati Amadio e Caidi, in dubbio l'esterno Fiore e l'attaccante Casolla, mentre con molta probabilità verrà recuperato Speranza. Tra le tre squadre partecipanti al friendly test match, quella che sicuramente avrà più entusiasmo nel fare bella figura sarà il San Nicolò di Epifani, tornato in Serie D dopo aver stravinto l'anno scorso il campionato d'eccellenza. Ci si augura ovviamente una bella cornice di pubblico per quella che sarà una vera e propria festa dello sport.